Nuova scuola di Carrara e Cucurano, obiettivo taglio del nastro e all'unidentro per l'anno scolastico 2020-2021. Un obiettivo che si vuole assolutamente e fermamente raggiungere per il quale l'amministrazione comunale e i lavori pubblici stanno alacremente operando. Come alacremente si sta lavorando in cantiere che in questa prima fase riguarda scuola elementare e palestra. Ora dopo gli interventi esteri le squadre di operai sono all'interno della struttura, lavorando sulla parte impiantistica. Un cantiere complesso di 5 milioni di euro, uno dei più grandi mai gestiti dall'amministrazione comunale e che quindi inevitabilmente presenta alcune difficoltà da affrontare. E' per questo che forse il tabellino di marcia non è proprio allineato alle previsioni iniziali, ma si stanno mettendo in campo da parte dell'amministrazione tutte le condizioni per farlo avanzare speditamente, come ci espone il responsabile del progetto, l'architetto Adriano Giangolini. Abbiamo completato le strutture, attualmente ci sono circa 20 persone che lavorano e stanno realizzando le finiture e tutta la parte impiantistica, quindi impianti di riscaldamento, climatizzazione. Ecco, tra l'altro la parte energetica è una componente importante di questa scuola. Sì, sin dalla progettazione abbiamo cercato di fare un edificio ad alta efficienza energetica, quindi con le migliorie offerte in sede di gara pensiamo di arrivare alla classificazione A4 che è il massimo della classificazione energetica. Ricordiamo che è una scuola con 10 aule più 4 laboratori, quindi linguistica, scienza, artistica e informatica e più tutti i servizi accessori. Per circa 2000 metri quadrati, quindi le stanze sono molto ampie, le aule circa oltre 60 metri quadrati, per circa 280 alunni. State lavorando anche per il resto del completamento dell'opera? Sì, questo è il primo nucleo di un polo scolastico più ampio che prevede anche una scuola materna e con il servizio di refezione. Il progetto esecutivo è già stato approvato e ovviamente appena terminato questo cantiere saremo in grado di partire con l'altro. Stiamo anche lavorando come ufficio urbanistica all'acquisizione anticipata delle aree necessarie per avere la strada di collegamento dalla Flaminia, in quanto attualmente vi si accede dal quartiere di Cucurano e a regime l'ingresso principale al polo scolastico avverrà dalla strada Flaminia, quindi con un accesso diretto verso l'area.